Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, dopo la prima approvazione in assise e il passaggio nella conferenza dei sindaci, ha approvato il bilancio previsionale 2024-2026. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha diretto la seduta, e dal consigliere delegato Giuseppe Ranuccio, che ha illustrato il documento in aula. È un bilancio coerente con l'indirizzo dato in questi anni, con la strada, con il solco già intrapreso in questi ultimi mesi. Quindi un bilancio che da un lato stanzi le risorse per rispondere alle istanze del territorio, a quelle che tuttora sono delle priorità, quindi la messa in sicurezza del territorio, l'edilizia scolastica, l'edilizia sportiva. Un bilancio che però investe su quelli che sono gli asset fondamentali per la crescita del nostro territorio, penso alla cultura, penso alla promozione turistica, al marketing territoriale. Approvata inoltre una mozione per la tutela e la valorizzazione del bergamotto di Reggio, che impegna il sindaco a farsi promotore di un incontro urgente col ministro dell'agricoltura, Francesco Lollo Brigida, al fine che si è resa trasparente la situazione in merito all'istruttoria conclusa per l'IGP bergamotto di Reggio Calabria e sull'avanzamento del procedimento di riconoscimento della DOP. Noi riteniamo che il bergamotto meriti finalmente uno strumento di tutela. L'IGP, il percorso per il riconoscimento dell'IGP, partito nel 2021, si trova ormai alla fase finale, conclusiva al Ministero dell'Agricoltura. Sappiamo che la Regione Calabria, il Presidente Occhiuto, si è di fatto opposto a questo percorso, diciamo rallentandolo, comunque bloccandolo. Noi chiediamo di capire il motivo per cui il Presidente della Regione Calabria, senza interfacciarsi con la città metropolitanea, abbia deciso di assumere questa iniziativa. Riteniamo che l'IGP non sia in contrasto con la DOP sull'essenza già in essere e riteniamo anche che su questi temi si debbano superare conflitti e divisioni e che invece la politica abbia il dovere di riuscire a trovare le soluzioni in concertazione per dare la massima tutela possibile a tutto il comparto del bergamotto. Grazie.